Sì, quest'anno finalmente le previsioni ci danno bellissimo tempo, quindi ha cominciato ieri e anche stasera bellissimo, un sacco di gente, questa sera la polentata sta andando alla grande, le previsioni appunto ci danno domani bellissimo e con i fuochi sicuramente faremo il pienone. Domenica poi ci sarà la sfilata nel pomeriggio e lunedì ci sarà poi la chiusura con il Paglio degli Asini e con tutte le altre attrazioni che abbiamo dal reparto mangereccio culinario ai divertimenti. Corvini, tre, due. Corvini, tre, due. Corvini, tre, due. Ucra. La chiusura. Grazie a tutti